Sono cinque sacerdoti che tra sabato e domenica hanno iniziato il cammino con nuove comunità nella nostra valle. A questione sabato ha fatto ingresso don Stefano Pellegrini, già parroco di Costa Serina, Ascensione e Traficanti, accolto dal vicario locale don Severo Fornoni. Il primo benvenuto al sacerdote è stato dato in Piazza Roma. In corteo il parroco è stato accompagnato alla chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro. In festa anche l'Effe sabato per l'ingresso di don Giuseppe Berlini. A presentare l'ex parroco di Gandellino e Gromo San Marino il delegato vescovile Monsignor Giuseppe Cesani. Don Giuseppe all'Effe dovrà seguire anche i giovani, non essendoci più un curato ad occuparsi dell'oratorio. Domenica mattina don Ruben Capovilla, originario di Cerete, è stato accolto ben due volte, prima a Gromo San Marino, poi a Gandellino. Dopo il saluto del sindaco Tobia Sigillini, le celebrazioni con il delegato vescovile don Giampaolo Tironi. Sull'altare anche Don Aldo Donghi e don Alberto Brignoli. Ieri mattina a Ponte Nosse è stato accolto don Roberto Falconi. Il sacerdote è arrivato sotto l'ombrello accompagnato dal delegato vescovile Monsignor Giacomo Panfilo e da un compagno di ordinazione, don Fabio Picinali, che la prossima settimana farà ingresso nelle parrocchie di Valcanale e Bani. Il nuovo sacerdote al termine delle celebrazioni ha ricevuto in dono dalle comunità di Ponte Nosse e Ponte Selva un plastico di un ponte affinché possa essere nel suo mandato un costruttore di rapporti e di ponti. Un grande abbraccio, quello della Valle del Riso, per don Giovanna Battista Zucchelli, che reggerà l'unità pastorale della Val del Riso, composta dalle parrocchie di San Martino di Gorno, Santa Maria Assunta di Oneta, San Bartolomeo Postolo di Chignolo e Sant'Antonio Abate di Cantoni di Oneta. Ad accogliere il nuovo parroco il vicario don Severo Fornoni e il curato don Alex Cambianica, insieme ai primi cittadini di Gorno, Oneta e Dossena, dove era in servizio don Giovanna Battista.